Sono io davvero che vi ringrazio, una bellissima riflessione, anche un bellissimo per me, ecco sì, ho una bellissima opportunità per rivedere alcune persone amiche, tante persone anzi amiche e per condividere un po' questi mesi, come dire, anche non facili per tutti quanti, in cui questa dimensione, diciamo, di tanto isolamento che tanta pesantezza ha creato ovunque, anche nelle nostre comunità e tanta povertà, diciamo così, ha già creato e probabilmente creerà, cioè una volta è passata la piena bisogna avere quello che ci sta sotto. Per cui questo invito, diciamo, del donare l'indispensabile e non il superfluo è collocato in questa situazione qui, cioè in un momento in cui ci troviamo e ci troveremo con delle domande di solidarietà, di vicinanza, di accoglienza, anche di rivisitazione, cioè se è vero che c'è tutta una ricostruzione da fare, forse questo ci spinge anche a noi a ripensare, diciamo, i nostri servizi, a inventarne di nuovi, a trovare le risposte adeguate al bisogno che c'è oggi. L'invito di Gesù, la prima cosa era proprio l'invito di Gesù, che l'invito di Gesù ovviamente è per tutti, quindi questo invito che poi in realtà è proprio di Gesù, Gesù non è che dici, ma da quello che ti avanza, vendi tutto, dalle ai poveri e poi seguimi, diciamo, non è interpretabile, è proprio molto evidente, ed è per tutti, quindi non è per qualcuno, non è per la classe dirigente, non è per quelli che hanno voglia di santità, siamo chiamati tutti a essere santi e tutti quanti siamo invitati a dare l'indispensabile, se non mi ricordo male, l'aveva indicata in quella povera vetora di cui nessuno si accorgeva, ma che ci aveva messo tutto quello che aveva per vivere, e quindi l'indicazione è chiarissima ed è per tutti. Qualche volta facciamo sempre delle differenziazioni, onestamente, cioè alcune cose sono per la classe, diciamo, dirigente, per quelli che si occupano, non so, del sacro, quelli invece del profano sono un'altra cosa, invece le dimensioni sono unite. Sicuramente, ecco, seconda considerazione sull'invito, che l'invito è per la gioia, è un po' importante ricordarmelo, e credo ricordarcelo, che non è, diciamo, stringi la cinghia, che così dopo, forse, poi a un certo punto acquisti qualche cosa, prima o poi ti arriverà. No, no, è l'invito per la gioia, tutto il Vangelo è per la gioia, non invita, non so, oppure perché conviene a Lui, e io non lo capisco, ma forse alla fine converrà a Lui, conviene a me, conviene a noi donare l'indispensabile e non il superfluo. Quindi, non è per una logica di Gesù, non è per metterci alla prova, non è per verificare, diciamo, il nostro attaccamento o meno, eccetera, eccetera, peraltro ci lascia appunto anche molto liberi, ma è per la nostra gioia. Ecco, quindi, avendoci fatti liberi a sua immagine, quindi, come un padre sapeva anche, se è un padre padre, un padre padrone no, ma è un padre possessivo o no, un padre padre sa che va anche incontro alle possibili incomprensioni, alle delusioni, ad essere mal interpretato, agli inviti che non vengono raccolti. Mi sembra che anche su questo, effettivamente, ci ha fatto forza, purtroppo, diciamo, l'abbiamo molto abituato che quest'invito a dare l'indispensabile non è il superfluo, non è che lo prendiamo molto sul serio. Quando è che diamo l'indispensabile? Quando vogliamo bene. Quando amiamo qualcuno, e per noi, per esempio, quando i poveri non sono gli utenti, agli utenti, al massimo daremo una razione un po' abbondante, se siamo generosi cercheremo di fare qualcosa, ma noi gli diamo l'indispensabile. Cioè, se c'è l'amore, sì. Questo è vero su tutto, poi vi deve vedere le applicazioni di questo ragionamento, ma noi doniamo l'indispensabile solo quando amiamo qualcuno. Anzi, se amiamo qualcuno abbiamo il problema contrario, non possiamo resistere senza donare. Capiamo che non ci facciamo niente del nostro, tra virgolette, indispensabile che abbiamo e siamo contenti solo quando lo abbiamo regalato e contentissimi se quello che abbiamo donato è servito, è utile all'amato, lo aiuta, ecco, allora siamo davvero contenti. Ma il nodo è lì, l'amore. In fondo la grande differenza del giovane ricco è che non capì l'amore di Gesù, del giovane, dell'uomo ricco. Perché Gesù gli disse la formula, poi lo guardò, lo amò, lo amò. E gli disse, vendi tutto, è una logica di amore. E quello dice, ma se che regola è, è una regola troppo impegnativa, se la interpreto come una regola. E dice, ma nemmeno padre Mosè. Quindi mi chiedono eccessivamente, per cui se ne andò triste, ovviamente perché appunto non capì, se ne andò triste perché senza amore. Ecco, altrimenti è contabilità. E la carità, una contabilità notoriamente strana, per certi versi impossibile, il contrario di quello del mondo, cioè se dai tutto, trovi tutto. Se condividi, moltiplichi. Se perdi, regalando, trovi. E ma questa è la logica dell'amore. Allora, altrimenti entriamo nella contabilità e finiamo per non donare mai l'indispensabile. E qualche volta, guardate, anche il superfluo. Perché qualche volta siamo avari anche del superfluo. Facciamo anche del superfluo, facciamo, diciamo così, contabilità. Ce lo teniamo, oppure così pensiamo che il ricco, che il povero si nutriva, come sappiamo, nemmeno del superfluo, nemmeno la briciola, vuol dire che nemmeno proprio che te ne rendevi conto, non gli costava davvero nemmeno nulla, eppure talmente disinteressato a Lazzaro, cioè talmente non aveva un legame minimamente affettivo con Lazzaro, che nemmeno gliela regala. Perché il nodo è lì, il nodo è sempre una questione appunto di amore. Oppure, qualche volta diamo, come, non lo so, qualche volta davamo, è come quelli che vengono alle Gari da Sevi Porto dei Vestiti Zuzzi. Chietteli. Mi spiace. Io, tendenzialmente, guarda, non li portava, portava in un'altra rata. Fai pure il buono. No, adesso faccio un esempio che penso che, credo che sia capitato a tutti. diciamo, in un qualche nervosismo, a me capitava qualche nervosismo, diciamo, siamo alla discarica. Ecco, dove non facevi nemmeno lo sforzo, diciamo, di dare qualche cosa con un minimo di attenzione, no? Ecco. Solo quando c'è amore, effettivamente, vogliamo dare l'indispensabile, no? La pandemia ci ha aiutato a tutti, vado per punti perché, perché te ne ho troppo... La pandemia ci ha aiutato a rimettere al centro l'essenziale. Perché in tanti modi, direi, molto traumatici, con una pedagogia, diciamo così, molto ruvida, a cui eravamo fortemente un po' disabituati, e ci ha tolto parecchie cose, tra virgolette, superfue, e ci ha costretto a rimetterci di fronte all'essenziale, qualche volta anche a riscoprire l'essenziale, o a metterci di nuovo a interrogarci, ma che cos'è veramente essenziale? Dobbiamo capirlo, e qui dobbiamo noi anche aiutare tanto a capire che cos'è davvero indispensabile, no? Perché il superfluo facilmente diventa essenziale, e spesso lo diventa, e ci fa anche, non capire più, cioè l'essenziale ci diventa superfluo, e il superfluo diventa essenziale, con una qualche confusione, quella che tante volte appunto abbiamo, viviamo, che tanti nostri amici e fratelli vivono, e che dobbiamo aiutare ricostruendo, ricapendo anche in questa lettura spirituale, e anche spirituale e antropologica, esistenziale della pandemia, per cui effettivamente a ricapire che cos'è davvero essenziale, e quindi anche a come viverlo, no? Non quello che diventa quindi, non quello soltanto che è essenziale a noi, ma nella logica del dono, è quello che è essenziale al prossimo. E il povero, l'incontro con l'altro, è quello che ci aiuta a ritrovare l'essenziale, proprio perché ci fa perdere il superfluo, e ci fa, ci coinvolge nell'essenziale. Dopo leggo il paragrafo 63, quello che avete poi indicato, su cui riflettere, no? Per esempio, noi buttiamo via molto tempo, nel questo paragrafo 63, che è molto intelligente, ed è peraltro appunto un punto di partenza, in quel secondo capitolo del Fratelli Tutti, che è proprio il commento della parabola del Samaritano, che cosa dice? Gli ha donato vicinanza, ha pagato di tasca propria, e quindi l'indispensabile vuol dire, per esempio, la gratuità, perché la gratuità con il superfluo non va mica bene, non è gratuità, è superfluo, la vera gratuità è investire l'indispensabile, l'essenziale, allora lì sì, cioè sarebbe, ti metti in gioco, tiri fuori quello che, altrimenti ti tieni perché pensi che, poi sai fare il gratuito con il superfluo, ci impieghiamo davvero poco, e appunto in realtà, poi più delle volte, quando si tratta poi di mettersi in gioco per davvero, allora si entra con la logica dei rimborsi, o con la logica dell'interesse. E poi, ed era il terzo punto, quello che lui sottolinea Papa Francesco, gli ha dato una cosa, su cui in questo mondo frettoloso, l'esimiamo tanto, gli ha dato il proprio tempo, sicuramente aveva i suoi programmi, per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni e desideri, ma è stato capace di mettere tutto da parte, davanti a quel ferito, e lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. Ecco, in realtà, vedendola, come dire, con quello, non ha perso il tempo, l'ha trovato, cioè, donare l'indispensabile, in realtà, ci fa trovare il tempo, ci fa trovare l'indispensabile, e i poveri ci fanno aiuto a capire l'indispensabile, l'essenziale della nostra vita. Con il tempo, qui credo che tutti quanti noi possiamo fare molti esempi di come non abbiamo tempo, e ne buttiamo tantissimo, non abbiamo tempo, e il tempo che ci è regalato, per esempio, anche con, di avere tempo in più, anche anni in più, anni di, diciamo, di regalati, per fortuna, da una vecchiaia che si è molto allungata, le pensioni no, le pensioni, ce ne hanno tolto parecchio, di tempo disponibile, ma abbiamo sicuramente più tempo, no? Allora, noi, effettivamente, nel paragrafo, molte volte buttiamo appunto il tempo, abbiamo il lusso di sprecarlo, cantava qui uno delle mie parti attuali, ma è un lusso che dura poco, perché il tempo poi è poco, e se resta soltanto Kronos, diciamo così, passa, non inisorabilmente, mentre il Kairos, cioè che quello lì diventa l'incontro per cui trovo il prossimo, perdo tempo e trovo il Kairos, e trovo il motivo, il modo con cui il tempo non lo perdo, perché diventa qualcosa che mi accompagna, diventa qualcosa che crescerà con me, e quindi diventa appunto il famoso tempo opportuno. il superfluo non regalato, e forse questo sicuramente lo dirà Bignami, è una condanna, cioè se noi non regaliamo anche il superfluo, è proprio un po' il, il, un peccato ulteriore, no? Cioè noi dobbiamo, sarebbe il pane che tieni per te, è dell'affamato, dobbiamo mai dimenticarlo questo, questa lezione appunto di qualcuno a cui Bignami è molto, è molto legato, e penso tutti quanti noi li dobbiamo parecchio, che si chiamava Mazzolari di cognome, è primo di nome, il pane che tieni per te è dell'affamato, e per certi versi, come, vi ricordate cosa che ha fatto scandalizzare qualcuno, no? Papa, quando Papa Francesco, ne l'ha laudato sì, e poi l'ha riportato anche i fratelli tutti, ha ricordato, che la proprietà privata, non è per te, è affidata a te, ma se te la tieni per te, rubi, e dice, ma quello è indispensabile, rubi, se te la tieni per te, perché poi ci metti dentro, poi quando il superfluo diventa indispensabile, pensiamo appunto a tantissime cose che sono effettivamente del tutto superflue, e poi appunto, poi vuol dire toglierle, togliere agli altri, per Sant'Agostino, era chiarissimo, il superfluo dei ricchi è il necessario dei poveri, possedere il superfluo è possedere il bene degli altri, ed è un dovere, che cosa vi è di più ingiusto, che far servire a una sporca avarizia, le restrizioni del digiuno, ecco, per questo dobbiamo effettivamente porci il problema dell'indispensabile, e lì ci si pone il problema dove sta il nostro cuore, e poco da fare, dove metti il tesoro, e guardate, evangelicamente e umanamente è sempre così, se il nostro cuore finisce per essere, il nostro cuore è nel denaro, a quel punto tu l'indispensabile non lo capisci, pensi che quello sia indispensabile, e in fondo ti resta indispensabile quella che poi diventa, pensi come indispensabile quella che ti diventa la tua condanna. il samaritano, come abbiamo ricordato, effettivamente mette il tempo e tutto quello che aveva, quando noi non mettiamo l'indispensabile non ci accorgiamo, cioè mi spiego meglio, quando vogliamo bene e quindi ci mettiamo in gioco tutto, perché poi a un certo punto l'indispensabile è il superfluo, vuol dire che uno si mette in gioco, che uno ha quello che ha, ecco, quando vuoi bene, e anche questa è un'altra cosa di Marzolari, bellissima, tu li vedi i poveri, e li senti, li capisci, senti la ferita, ne senti il problema che ti coinvolge, e quindi anche di dare tutte le risposte necessarie, con il criterio sono loro, non sono io, è quello che serve a loro, quello è il nodo, per cui appunto cerco di metterci tutto, mi coinvolgo tutto quanto, altrimenti molte volte col superfluo non li vedo i poveri, dando soltanto il superfluo non mi accorgo, vedo soltanto il mio, non quello che serve a loro, non so se mi spiego, penso che già poi più delle volte pensiamo di fare già tanto, anche con il poco. Credo che il problema del dare l'indispensabile è proprio la sfida anche di questo momento di crisi che noi stiamo vivendo, perché nella crisi siamo coinvolti con tutto noi stessi, ed è questa anche la grande sfida, io credo, perché collocando questo ricorso nella pandemia, noi non ne usciamo aggiustando qualche cosa sempre nella logica del superfluo, ma rimettendo in gioco l'indispensabile. allora sì che la crisi è davvero generativa di qualcosa di nuovo, come deve essere, vi ricordate la distinzione che ha fatto Papa Francesco sulla crisi e conflitto, noi siamo dentro una crisi, e questo ci deve spaventare, ci spaventa moltissimo, ci crea tante difficoltà, ci apre tante domande, eccetera, ci mette alla prova, le crisi mettono alla prova, sarete vagliati come grano, siamo vagliati, e anche tanti delle nostre misure, perché il superfluo poi, insisto, è pieno di misure, quando ci mettiamo in gioco indispensabile, diventiamo senza misura, diciamo così, troviamo tutto, e sono anche i famosi cinque pani e i pesci, in cui ci rimettiamo tutti, e basta per tutti, altrimenti avremmo dovuto cominciare a fare tutti quanti i calcoli, come fanno i discepoli, su quello che basta, quello che serve, quello che non serve, come arriviamo e via dicendo, e non basta mai, allora nella crisi, siamo chiamati a metterci in gioco tutto, a rivedere tutto quanto, e in cui anche appunto, ci tira fuori anche l'indispensabile, indispensabile della nostra, di quello che noi siamo, e anche del nostro pensare, la carità, e del vivere la carità, con le tante domande che ci raggiungono, e che ci raggiungeranno, e che dobbiamo non soltanto capire, vedere, quindi le vediamo solo, se ci mettiamo in gioco tutti, altrimenti vedremo soltanto alcuni problemi, da cercare di risolvere, con il superfluo che abbiamo, quindi alla fine sempre in maniera limitata, e alla fine sempre non risolutiva, alla fine, e poi alla fine non diventa mai risolutiva, con il superfluo non siamo mai risolutivi, lo usiamo per davvero, quando ci mettiamo in gioco tutto quanto, allora sì che troviamo davvero le soluzioni, sempre nel Fratelli Tutti, c'è un monito, mi sembra che sia il numero 162 o 63, in cui dice, guardate, bisogna dare i soldi nell'emergenza, ma bisogna dare lavoro, cioè sarebbe, non è, basta soltanto, come dire, provare a rispondere in qualche cosa, ma trovare lavoro, e quindi anche eccetera, lo fai soltanto se ti metti in gioco tutto quanto, e se appunto non passi da una logica, diciamo così, del superfluo a quello che è veramente indispensabile, per te e per lui, ed è in questo senso cominciare a essere davvero fratelli tutti, cominciando dai fratelli più piccoli di Gesù, cioè cominciando da quelli che il Signore ci affida, come appunto i Suoi. il samaritano, nel commento che fa Papa Francesco, comincia coinvolgendo tutto se stesso, fa tutto senza aspettare riconoscimenti e ringraziamenti, quando mettiamo in gioco tutto è perché vogliamo bene, ma noi diamo il superfluo, molte volte calcoliamo molto di più la reazione e quello che è l'effetto, ma per noi, insisto, non per il prossimo che dobbiamo riconoscere e che dobbiamo, a cui dobbiamo fermarci, no? Il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo e per far questo ha attraversato tutte le barriere culturali e storiche, quindi non ha più dei prossimi da aiutare, questo è il numero 81 dei fratelli tutti, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri e mi sento chiamato io a diventare un prossimo degli altri, quindi mi metto in gioco tutto, quando per me è indispensabile che tutto quello che ho sia condiviso con il mio prossimo. Ama il tuo fratello come l'anima tua, proteggilo come la pupilla dei tuoi occhi. Ecco, se questa indicazione del Vangelo aproprio di Tommaso lo facciamo nostra, capiamo perché ci conviene donare l'indispensabile e non il superfluo. Grazie.